Era una guerra proprio da noi, sotto i nostri piedi. È una cosa molto difficile. Bisogna essere dentro in quel mondo. Una giornata brutta, fredda. Arrivavano gli aerei. Arrivavano gli aerei. Se venivano fuori, guardate che ghanchinkò. Ghanchinkò è il plano. Poi c'è stata la fine del mondo. Che sta a bombardare la meccanica. Cominciò invece un altro parametro che è molto più importante. Arrivavano i fascisti in casa che arrestavano mia madre. Arriva i tedeschi. E mi portano a Preslao. Andavamo alla stazione, aspettavano il treno che arrivava, ma Giuseppe non veniva più. E i fascisti mi hanno portato i papà e fratelli. E i am portati matavosi. E i fascisti. Neodrono. Neodrono. Beh, i ricordi sono tanti perché guarda, quando si vive nel caos, rimangono in mente le cose. Le cose rimangono in mente. Se la vita è tranquilla giorno per giorno, te le dimentichi. Te le dimentichi. E noi viviamo qui, vii. Vii aspettavano. E noi viviamo qui. E noi viviamo qui. Grazie a tutti